Un convegno sull'intermodalità organizzato dalla Cislimo 15 giugno al Palabecci è il prossimo appuntamento che mette insieme le coordinate del futuro economico dell'Abruzzo. In cima c'è la linea ferroviaria Roma-Pescara. La notizia dei fondi dirottati del PNRR che è piaciuta ai residenti delle zone interessate dal disagio del cantiere del raddoppio o velocidazione della linea in questione non è stata colta bene da imprenditori e lavoratori. Siamo in un momento cruciale delle scelte strategiche del Paese e dell'Europa. La nostra regione si gioca il futuro dei prossimi 50 anni e non ci possiamo permettere di non avere certezze su grandi infrastrutture come la Roma-Pescara, infrastrutture ferroviarie di alta velocità. Non ci possiamo permettere incertezze sulla trasversalità tirreno adriatico, sul corridoio intermodale che vede partecipare l'Abruzzo come il progetto più sostenibile a livello nazionale. E di intermodalità che si parla, cioè di come favorire il trasporto di merce attraverso unità di carico. Va da sé che creare le zone economiche speciali con tutti gli sgravi annessi, fiscali e burocratici, serve a poco se le infrastrutture continuano ad essere carenti. Se noi oggi dovessimo tarpare le ali alle nostre imprese o alle imprese che arriveranno da altre parti d'Italia e d'Europa per investire sulla nostra regione, sarebbe un grande bagno di sangue dal punto di vista economico e dal punto di vista anche sociale. Qual è l'appello che Confindustria rivolge alla politica abruzzese e nazionale? Noi lo abbiamo scritto ieri nel manifesto delle 16 associazioni di categoria e sindacali. Vogliamo assolutamente che si intervenga dal punto di vista politico in modo bipartisan, sia la maggioranza ma anche l'opposizione a livello parlamentare, a livello regionale, perché ci sia un atto concreto, documentato e immodificabile sul finanziamento della Roma Pescara e sulle certezze per la trasversalità terreno-adriatico. E non dimentichiamo nemmeno il corridoio, nel corridoio baltico-mediterraneo, dove nelle reti TNT per l'alta velocità le uniche regioni escluse sono Marche, Abruzzo e Molise e su questo annunceremo una battaglia perché si possa finanziare anche questa parte dell'opera.